Buona domenica a tutti. Il Signore è risorto, sì è veramente risorto ed è in questa certezza che noi cristiani alla domenica viviamo la gioia dell'incontro nell'Eucarestia. Ancora ci è legato ma ormai abbiamo una data in cui potremmo ritrovarci insieme ma già anche oggi gioiamo e facciamo il possibile per partecipare a un'Eucarestia attraverso la televisione o anche attraverso la trasmissione in Youtube che faremo alle ore 10 dalla parrocchia di Santa Maria ausiliatrice del canale Parrocchie Iesolo Lido. Il Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi ed è il luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, se avete conosciuto me conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo signore mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre, come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e le compirà di più grandi di queste perché io vado al Padre. È il Vangelo che abbiamo già sentito sia venerdì sia sabato in due parti, oggi viene riproposto intero, abbiamo già fatto varie meditazioni e invito tutti a seguire le spiegazioni che troverete nella celebrazione della Messa oggi. Sottolineo un aspetto, mi fermo in particolare sulla figura di Tommaso. Tommaso dice questo, signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Tommaso fa una domanda a Gesù, la fa come farà, anche come l'ha fatta Pietro, come farà Filippo, come farà anche Giuda. Nel nostro essere cristiani qualche volta è privo di domande, oppure se anche abbiamo delle domande non cerchiamo realmente delle risposte. Mentre è evidente che il discepolo deve imparare e si impara facendo delle domande. L'arte dell'imparare è proprio quella di porre le domande giuste. Domandiamoci, io ho domande da fare al Signore? Come cerco di rispondere alle domande che mi nascono nel cuore? O forse si introduce nella mia vita una certa pigrizia per cui nascono delle domande ma poi restano lì sepolte e allora la vita spirituale diventa debole e la mia adesione al Signore diventa poco significativa. Qual è il senso di questa domanda? Quella, signore non sappiamo dove vai, perché in realtà Gesù durante la cena aveva detto, quando Giuda era uscito, ecco come aveva detto già ai giudei, così Gesù dice agli apostoli, dove io vado voi non potete venire. Quella situazione Pietro si era un po' arrabbiato e ha detto come non posso venire, ti seguirò da chiunque, dovunque tu vada. Tommaso invece dice ma dov'è che vai? Come possiamo conoscere la strada se non sappiamo dove vai? È evidente che Gesù con quella frase, adesso noi lo comprendiamo bene, intendeva parlare della sua morte e quando diceva poi ritornerò a voi della sua risurrezione. Ma mettiamoci nei panni di Tommaso, uomo entusiasta, uomo concreto che aveva donato la vita per Gesù. Nel capitolo 11 si racconta che quando Gesù va da Lazzaro, rischiando la vita perché cercavano di ucciderlo in Giudea, Tommaso dice andiamo con lui, siamo pronti a morire per lui. Ecco, questo uomo concreto, pieno di passione che ha una forte certezza nel seguire il Signore, però vuol capire. E quando Gesù accena alla sua partenza e quindi anche alla morte e risurrezione, certamente annuncia qualcosa che per un apostolo, uno che è venuto prima dell'esperienza della croce della risurrezione, era veramente difficile da capire, da immaginare. Ecco che la sua domanda ha senso e Gesù infatti gli risponde senza rimproveri. Come in fondo ha senso anche per noi porre la domanda, o Signore noi parliamo di realtà spirituale, parliamo di vita eterna, parliamo di vittoria sul turbamento, di pace profonda, ma tutte queste realtà spirituali dove sono? Come si fa a sperimentarle? Ecco che tante volte abbiamo come l'impressione che tutti questi discorsi siano soltanto discorsi. Quindi poniamoci sul serio la domanda, ma non conosciamo queste cose di cui tu Gesù parli. E qual è la risposta di Gesù? Gesù non elude la domanda, ma la sua risposta è molto chiara. Io sono la via. Io. E qui si riassumono altre espressioni simili quando Gesù aveva detto io sono il pastore, io sono la via, io sono la luce, io sono il pane. In questo senso l'insegnamento di Gesù è preciso e ripetitivo. C'è un luogo, un'esperienza, perché quando Gesù dice io sono la via indica che appunto Tommaso può vedere Gesù, può ascoltare Gesù, può condividere con lui la cena, può vedere che Gesù lava i piedi discepoli, può vedere che Gesù prega, può vedere che Gesù affronta i suoi interlocutori, anche i suoi oppositori, potrà vedere Gesù preso, potrà vederlo messo in croce. Gesù è un'esperienza, non è un'idea per Tommaso. E questa esperienza concreta, accolta, è la strada reale che permette di comprendere, sperimentare dal vivo le promesse spirituali. Ecco che Gesù dice quando tu percorri questa via, allora avrai come risultato la verità, e cioè comprenderai realmente il senso di quello che faccio. Se tu ci stai, l'ha detto anche i discepoli, se state nelle mie parole, allora conoscerete la verità. Non sarete come Pilato che chiede ma che cosa è la verità, perché non è capace di accogliere la testimonianza di Gesù. Se noi stiamo dentro a questa esperienza che è Gesù, allora conosceremo la verità e la verità ci porterà alla vita. Ecco l'animo di colui che non è turbato, che fa esperienza delle realtà spirituali, che realmente sente che la vita di figlio, perché questa è la verità, è una vita possibile già da adesso e ti apre all'esperienza dell'eternità. Io credo che sia importante oggi sottolineare questo aspetto e questa domanda di Tommaso, e mi soffermo brevemente perché appunto rimando all'esperienza di altre predicazioni, per ricordarci che di fatto noi dobbiamo stare su Gesù. E attenzione, noi corriamo il rischio di essere persone buone, religiose, ma non radicate realmente sulla figura di Gesù. Le letture oggi sono significative su questo aspetto. La seconda lettura ci dice che Gesù è la pietra su cui deve essere fondata la nostra casa, il nostro edificio, se no diventa pietra che ci fa cadere se non la mettiamo all'angolo della nostra vita. E la prima lettura racconta un'esperienza interessantissima. Gli apostoli si trovano di fronte alla comunità che vive il problema dei poveri, ci sono delle discriminazioni, ci sono delle armantele, le vedove dei credenti di lingua greca vengono trascurate e allora devono attuare una riforma, devono fare un'attenzione perché i poveri sono il tesoro della chiesa. Ma che cosa fanno? Nominano sette persone, danno a loro il compito di seguire le vedove perché loro dicono noi non possiamo lasciare la preghiera e la predicazione. Ma come? Non sono più importanti i poveri? No, gli apostoli dicono dobbiamo trovare altre persone che seguano i poveri perché noi non possiamo tralasciare la predicazione. Pensate anche nella nostra epoca, anche in questa situazione la chiesa si è chiesto molto. A noi per esempio è stato detto, sì potete celebrare però i poveri li accogliete, preparate i pacchi, trovatevi per preparare il cibo, trovatevi per distribuire le mascherine, cioè le cose del bene verso i poveri, queste le comprendiamo, le altre cose non sono importanti anche se le tralasciate per un po'. In realtà la chiesa vive, vive della carità ed è decisivo perché è la vita che sgorga dall'incontro con Cristo, ma se non c'è l'incontro con Cristo non sta in piedi. Ecco che noi non possiamo perdere questa adesione profonda alla parola del Signore Gesù, ai Suoi sacramenti che è il modo con cui il risorto, quell'esperienza che poi Tommaso ha fatto, continua anche oggi. Per cui il nostro cristianesimo e la nostra fede è basato su una strada che ha dei segni, che ha delle parole, che ha delle esperienze, allora diventa verità e vita. Ecco che il Signore ci aiuti a riconoscere realmente Gesù Pietra, parola che non può essere dimenticata e allora sgorgerà la verità e la vita. Nel nostro ricordo oggi imprendiamo Maria, soprattutto anche per tutte le mamme, a cui auguriamo una bella festa, ma soprattutto la intercessione di Maria e la benedizione del Signore Gesù. Buona domenica.